Stà per iniziare la finale del campionato nazionale di calcio tra le squadre della Muppet e quella della New Team Sporting Club. L'incontro verrà trasmesso in televisione. Le squadre stanno entrando in campo. Fanno ingresso in campo le due squadre precedute dalla terna arbitrale. Ecco le due formazioni, prima quella della Muppet con in testa gli attaccanti Mark Lenders, il capitano, poi Coleman, Mello, i centrocampisti Jones, Ale, Reeves, quindi i difensori Star, Foster, Green, O'Neal e infine il portiere Edward. Per la New Team abbiamo gli attaccanti Atton, che è anche il capitano, Carter e Mason, i centrocampisti Becker, Diamond e Morris, i difensori Denver, Harper, Caster e Taylor, i difensoriere Benjamin Price. I giocatori sono allineati ed aspettano il sorteggio del campo. Finalmente ci siamo. Già. L'arbitro ha lanciato in aria la moneta. La New Team giocherà a destra, mentre la Muppet ovviamente sulla sinistra. Il calcio di inizio sarà dato dalla Muppet. Ho portato questi dolci perché vi diono una sferzata di energia. Forza, coraggio ragazzi, venite a prenderli. Grazie signor Kramer, grazie. È stato molto gentile a pensare a noi. Accidenti, è possibile che voi pensiate sempre e soltanto a mangiare, ma ne ho presi pochi pochi. Ci daranno tutte le energie necessarie per fare un tifo grandioso, fatti. Ipocriti, ogni scusa è buona per ingozzarvi, golosi che non siete altro. Atton, preparati a collare a picco insieme alla tua squadra. Questa volta non ci batterete, Landers. I giocatori delle due squadre hanno preso le loro posizioni. Il caso ha voluto che proprio queste stesse squadre abbiano giocato la prima partita delle eliminatorie. Sono presenti nelle tribune le formazioni che sono state eliminate nei precedenti incontri. In quella prima partita di campionato la Muppet vinse sulla New Team per sette reti a sei. Non è possibile quindi fare pronostici. In porta per la New Team vediamo Benjamin Price, che si era infortunato ad una gamba ed era stato costretto a casa per tutto il campionato. Ora sembra che si sia completamente ristabilito e sarà difficile per la Muppet violare la sua porta. Tutti conoscono la sua fama di portiere imbattito. Ragazzi, qual è la squadra più forte? La nostra! Anche la Muppet sembra intenzionata a non concedere nessuno spazio alla squadra avversaria. La sua porta è difesa da Ed Warner, della cui bravura ci siamo potuti rendere conto durante la partita di semifinale contro la Flyman. Entrambe le squadre sono molto preparate. Chi vincerà? La verità tattica di Atton o l'aggressività di Lennon? Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Eccolo! Calcio d'inizio a Mello. Mello passa a Lennon, che affiancato dallo stesso Mello e da Coleman si dirige verso l'area avversaria. Dobbiamo fermarli! Mason e Carter si dirigono verso Lennon per fermarlo. Stanno arrivando. Forza, correte! Ted, Johnny, dai! Mason e Carter non vanno verso Lennon ma incontro a Mello e a Coleman. Sarà lo stesso Atton affiancato da Baker a marcare Lennon. Nessuno si aspettava questa mossa. Forza, Olly! Forza, Tom! Forza, New Team! Forza, Olly! Dai, Olly! Ma che figura! Il pubblico è molto eccitato. Avremo i capitani delle due squadre che si affronteranno direttamente gomito a gomito. Sei pronto, Lenders? Così mi marcherai tu, Atton. Staremo a vedere. Prendi questa! Violentissimo tiro di Lenders colpisce in pieno stomaco Oliver Atton che si trovava di fronte a lui. Sembrerebbe un'azione volontaria e non accidentale. Maledizione! È chiaro, l'ho fatto apposta! Ho promesso a me stesso che oggi vi distruggerò, Atton. Saremo noi i campioni nazionali. Dannazione! Con un bellissimo tiro all'indietro, Atton passa la palla a Baker. Poi scappa in avanti. Ma ascolta bene quello che ti dico, Lenders. Non sarete voi a vincere il campionato, ma noi! Incredibile! Ora che abbiamo di nuovo Benji, nessuno riuscirà più a segnare. Lo vedremo! Baker cerca di passare! Abbiamo giocato insieme quando vivevo nella tua città, Mark Lenders. Ma ora io sto con l'anno utile e con loro vincerò il campionato. Baker tenta un dribbling su Lenders e scatta in avanti! Bellissimo è il tiro di Baker! Oh no! Vero! Il bellissimo tiro di Baker è diretto ad Atton, che sta correndo per cercare di prendere il pallone. Nessuno della mappa si prova a soffarlo. Dannazione! Bravo Tom! Se Olly prende quella palla signerà di certo un gol. E saremo in vantaggio. Forza Olly, corri dai! Prendi la palla! Atton è quasi entrato nell'area di rigore della mappa e il pallone non ha ancora toccato terra. Che passaggio Tom! Atton stoppa il pallone! Voglio provarci! E lo aggiusta sul piede per tirare! Atton calcia violentamente il pallone, che come un proiettile va verso la porta avversaria. Ce la fa! Chiaro che ce la fa! Questa è gol! Ce la farà! No! Warner riesce a parare! Ce l'ha fatta! L'ha parata! Con un salto davvero acrobata, Warner farà il tiro di Atton! È davvero un portiere formidabile, come aveva già dimostrato in passato! Sei una bomba! Bravo Ed! Quel portiere è un gatto! Accidenti! Mi è venuto nervoso allo stomaco! Anche a me, maledizione! Come avevamo già visto nella partita con la Flynet, Ed Warner è davvero un portiere eccezionale! La New Team ha perso un'ottima occasione per passare in vantaggio! Però è bravo quel portiere! Mi dispiace per te, Oliverato, ma non riuscirei a segnare nessun golfing che ci sarò io davanti a questa porta! Eh? Ha molto sangue freddo, un'ottima qualità per un portiere! Ascolta, Warner, io riuscirò a segnare lo stesso, puoi scommetterci! Davvero? Questo renderà la partita molto emozionante, ma... Saremo noi a vincere! Forza, ragazzi! Ecco il rinvio lunghissimo del portiere della MAP! Per tutti i diavoli! Il pallone è diretto verso Reeves! Devo riuscire ad arrivare almeno fino all'area di vigore! Te lo aggancia! Dai, Oscar, passami la palla, avanti! Eccola, capitano! Reeves tira il pallone verso Wander! Lo devo fermare! Bellissimo intervento di Harper, che si impossessa del pallone! Ehi, Bruce, è stato fantastico! Dai, continua così, Bruce! Quello è mio figlio, sapete? È proprio il mio bambino! Stavolta ha fatto un intervento davvero professionista! Ci sono riuscito! È tua, Ted, ok? Harper, passa il pallone a Carter! Dai, Ted, coraggio, corri! Cerca di arrivare il più avanti possibile! Carter, continua ad avanzare! Sono tutti molto bravi, anche se nelle eliminatorie li abbiamo battuti! Dobbiamo farlo anche stavolta! La new team viene ancora in avanti con Carter! Il numero 7 oggi si sta dimostrando in ottima forma! Sembra che nessuno della mia squadra riesca a fermare quel mocciosa! Devono scuotersi e dimostrare quanto vale davvero la Muppet! È la migliore! Grazie a tutti!